Oggi sul canale di Ingegneria Italia torneremo a parlare di meccanica e più nello specifico di motori a combustione interna ma non di quelli tradizionali a pistoni dal momento che vi spiegheremo chi è inventato ma soprattutto come funziona il motore Wankel che è un motore rotativo. In sostanza il pistone rispetto a quelli tradizionali dove si muove di moto rettilineo alternato in questo caso ruota attorno a un asse e adesso vedremo esattamente come funziona il processo della combustione in questo motore ma soprattutto quali sono i suoi pro e i suoi contro. Dal momento che qui sul canale sì ci piace parlare di mobilità elettrica, batterie e tutte le potenzialità che quel comparto apre ma ci piace a volte anche fare un passo indietro e vedere quali sono state alcune delle invenzioni più dibattute nel corso della storia anche perché se prima di questo momento conoscevate già il motore Wankel non potevate non aver fatto caso alla forma particolare che è in sostanza molto diversa da quelle tradizionali. Il nome che il motore ha è dovuto all'inventore ossia Felix Wankel che successivamente assieme a alcuni esperti della NSU, una casa automobilistica, ha realizzato dei primi e veri modelli automobilistici che montavano questo motore e qui come non citare la NSU Spider o anche altri modelli di casa automobilistica oggi più conosciute come ad esempio Citroen o Mercedes. La prima delle due ha realizzato ben 267 esemplari della M35 che montavano proprio il motore Wankel. Mercedes sulla sua C11 ha invece realizzato molti meno esemplari ma comunque ha fatto dei test attorno a questa tipologia di motore anche perché rispetto a quelli tradizionali aveva un pro non da poco ossia che aveva banalmente meno parti in movimento e quindi in sostanza dal punto di vista progettuale era molto più facile da realizzare. Anche l'Italia aveva fatto poi dei passi in questa direzione grazie alle iniziative di Alfa Romeo che ha condotto dei test per qualche anno per poi in definitiva rinunciare a quest'idea. Avrete poi già capito che nonostante rimanga un motore endotermico dove avviene in sostanza una vera e propria combustione è una tipologia molto differente da quella tradizionale e la prima reale differenza si può notare proprio nella forma dei componenti. Se infatti diamo uno sguardo alla camera di combustione notiamo che il profilo è simmetrico rispetto ai due assi ortogonali e la forma che questo ha prende il nome di epitrocoidale. Abbiamo poi il rotore vero e proprio che è caratterizzato da un profilo su base triangolare equilatera e con dei lati leggermente convessi. Questa forma poi nel tempo ha preso il nome di triangolo di Revlox. Perdonate ragazzi la pronuncia spero sia corretta. Adesso arriva forse la parte più interessante e anche tecnica del video dal momento che vi spiegheremo esattamente come il motore funziona, quali sono le fasi di lavoro e qui se magari non avete un background di meccanica potreste avere qualche difficoltà. Ma vi basterà sapere che quasi ogni motore a combustione interna appoggia il suo funzionamento su quattro fasi che sono l'aspirazione del carburante, la compressione, la successiva combustione e infine lo scarico della miscela. Quello che poi può variare tra un motore e l'altro in termini proprio molto semplici è come questo ciclo avviene. Dal momento che la geometria differente rispetto a un motore endotermico tradizionale farà sì che le fasi per l'appunto abbiano delle sostanziali differenze. In questa tipologia di motore il nostro rotore che ha tre lobby ruota eccentricamente attorno all'albero motore e con questo suo movimento genererà come nei motori tradizionali endotermici delle camere di lavoro. In questo caso specifico il nostro rotore forma tre camere il cui volume varia ciclicamente man mano che questo ruota. All'interno poi del nostro motore come abbiamo detto avvengono le quattro fasi che sono l'aspirazione, compressione, la combustione e lo scarico. Un primo vantaggio di questo motore lo vediamo subito grazie alla geometria che permettendo appunto tre camere di lavoro fa sì che si creino contemporaneamente tre cicli otto a quattro tempi sfasati appunto di 120 gradi e questo permette di generare una potenza specifica maggiore rispetto ai modelli tradizionali. Prima di vedere però le quattro fasi nello specifico e capire effettivamente come avviene il ciclo di funzionamento vi servirà a sapere ancora qualche elemento come ad esempio dove sono posizionati il condotto di aspirazione, il condotto di scarico ma anche le candele per poter scatenare effettivamente la scintilla e quindi la combustione. La prima fase quella di aspirazione della miscela ha inizio quando il volume della camera in cui sbocca il condotto di aspirazione incomincia ad aumentare come potete effettivamente vedere nell'immagine. Questo fa sì che si crei una depressione che quindi tenderà ad aspirare la miscela all'interno della camera statorica. Andando poi avanti nel suo moto inizia la seconda fase ossia quella dove il rotore farà sì che ci sia una riduzione dello spazio compreso tra la sua parete e quella dello statore portando quindi la miscela aspirata nella prima fase ad essere compressa. Ed è a questo punto che entra in sostanza in campo la candela scatenando appunto la scintilla una volta che la compressione ha raggiunto un valore ottimale. Ha perciò qui inizio la terza fase quella della combustione e di conseguenza l'espansione del gas che ne consegue. Il forte aumento di pressione farà poi sì che il rotore prosegua nel suo moto rotativo. Non rimane adesso altro che la quarta fase ossia quella dove grazie ai condotti di scarico i gas combusti vengono spinti fuori dal motore che continua a ruotare. Ed è proprio grazie alle quattro fasi del ciclo che il moto viene poi trasbesso tramite una serie di meccanismi dall'albero motore verso la frizione e poi da questa al cambio e infine alle ruote motrici. Le principali case automobilistiche che nel corso del tempo si sono avvicinate a questa tipologia di motore hanno poi in realtà rinunciato dal momento che c'erano alcuni problemi che non riuscivano a risolvere. Come ad esempio la rapida usura degli elementi di tenuta del rotore o i consumi di carburante nella maggior parte dei casi eccessivi. In sostanza tanti problemi che hanno fatto sì che Mercedes, Alfa Romeo e anche Chevron rinunciassero a portare avanti questo progetto nel corso del tempo. L'unica casa automobilistica che in realtà è andata avanti a realizzare dei modelli fino anche oltre il 2000 è proprio la Mazda e alcuni dei modelli su cui si sono visti montati questi motori sono l'RX7 o l'RX8. Come abbiamo detto all'inizio del video uno dei principali vantaggi di questo motore era il fatto che ci sono meno parti in movimento e quindi in fase progettuale c'erano diversi vantaggi nel portare avanti una soluzione di questo genere. Anche il rapporto peso potenza era abbastanza favorevole dal momento che il motore era molto leggero e questo era sicuramente un fattore a suo vantaggio rispetto agli altri modelli. C'erano poi anche altri aspetti come ad esempio il poco rumore che questo generava rispetto a quelli tradizionali che all'epoca erano sicuramente molto più rumorosi delle automobili a combustione interna di oggi o anche le temperature dei gas che erano minori e quindi in sostanza rappresentavano una complicazione in meno rispetto a quelli a combustione interna tradizionali. Le difficoltà però non erano poche e soprattutto era anche difficile intervenire dal momento che la geometria del motore era molto particolare come ad esempio il fatto che gli elementi di tenuta si usurassero in maniera molto frequente. C'erano poi anche tanti problemi nei sistemi di guarnizione e di lubrificazione per arrivare poi anche al grande consumo di carburante che era un forte contro di questo motore in un periodo dove si iniziava già a far più attenzione a quanto le automobili effettivamente consumassero. Speriamo ragazzi di avervi spiegato in maniera chiara al funzionamento di questo motore che possiate chiudere il video portando a casa qualcosa e se così è non dimenticatevi di lasciare un like ma soprattutto di iscrivervi al canale youtube di Ingegneria Italia dove cerchiamo ogni giorno di dare il massimo per fare nel nostro piccolo sempre più informazione su temi tecnici che ci appassionano da sempre. Questo è tutto ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti